un consiglio che tu che sei un veterano, un consiglio che vuoi dare a questi ragazzi che vogliono intraprendere questa strada che non è facilissimo in nessun campo quindi non pensate oggi che la televisione offre tutti questi programmi dove si parte dalla televisione per arrivare dove prima si partiva da una bella lunga gavetta per arrivare in televisione ma tu sei stato raccomandato no no assolutamente se tu vuoi partecipare a Bellissimo bellissimo studi d'Italia e parte ora il nuovo programma 2010 stiamo facendo i provino, vuoi fare il provino con noi? dai lo faccio fai una bella a Manila, di Manila mi fai fare il provino Manila fammi fare sto provino sennò io qui dopo è un macello che facciamo? Manila fammi fare il provino a mandi mandi se poi non mi prendono, eh no, non va bene scusa eh un saluto agli amici di Bellissimo, ciao tu chi sei? Elena, 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 Elena ti sei mai messa in topless? no e fallo a mano no che no? no, cioè il mio ragazzo è geloso ah se no lo facevi si tu capiterà che verrai di nuovo qui all'acquapark senza il tuo ragazzo? no, è impossibile beccato ciao bellissimo sull'Italia ma dov'è che puoi staremo in onda? nella piscina, vedi l'onda? mi sono spogliata per gli amici di Bellissimo Sud Italia continuo, continuo eh, sono già tutta spogliata beh, per gli amici di Bellissimo ora mi prendo un bacio, dammi un bacino no, no qua, qua no io ho provato sì, siamo alla ricerca di nuove persone per il corpo di ballo di Bellissimo Sud Italia vuoi partecipare? sì, perché no, certo vuoi partecipare? troppo fastidio, giovane, troppo fastidio aiuto, manila, manila, manila no, no, no signora, là sotto sono nudo mi dica là sotto sono nudo è tanto piacere non mi interessa dopo Bellissimo Sud Italia estate arriverà su Tele Ragione Realiti Sposi se ne vedranno delle belle vedrete lui e lei vedrete lui e lei Sapul Sapul Sigh Sigh